Aumenta la sinergia tra la Procura Generale di Caltanissette e la Guardia di Finanza nel campo dell'aggressione ai patrimoni di origine illegale, argomento di estrema attualità nella lotta non solo alla criminalità organizzata e comune, ma anche ai reati di natura fiscale ed economica. Il Procuratore Generale Facente Funzioni Antonino Patti e il Generale Riccardo Rapanotti, comandante regionale della Guardia di Finanza, hanno sottoscritto un memorandum operativo per aumentare gli ambiti di cooperazione in modo da ridurre il rischio che a seguito di una sentenza di condanna e eventuali provvedimenti di confisca possano risultare non eseguiti o solo parzialmente eseguiti a causa di fenomeni di dissipazione dei beni di provenienza illecita. Procura Generale e Guardia di Finanza stanno anche valutando nuove possibili forme di collaborazione e supporto. La firma dell'accordo prevede anche l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto composto da magistrati della Procura Generale e da militari del Comando della Guardia di Finanza di Caltanissette ed Enna. In particolare verranno approfondite modalità e procedure riguardanti gli accertamenti patrimoniali e l'individuazione per le migliori strategie per scongiurare il rischio di dissipazione dei beni una volta che a seguito di una sentenza di condanna si debba procedere a provvedimenti di sequestro e confisca.